ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi siete pronti a vedere la collezione tutta bella illuminata ragazzi ebbene sì ebbene sì finalmente mi sono convinto ho acquistato delle lampade led che dei faretti led che adesso andremo a vedere ho attaccato in questo muro proprio qui davanti a me due bellissimi quadri che finalmente ho portato ad incorniciare adesso vedrete quanto sono belli e niente ragazzi ci tenevo perché è una cosa che mi ha dato tanta soddisfazione veramente tanta soddisfazione ed è praticamente la ciliegina sulla torta il completamento insomma di una camera che fino a diciamo tre giorni fa era buia era insomma aveva delle parti come avete visto nell'ultimo video dove praticamente non si vedeva nulla e quindi mi sono detto qua è meglio spendere qualche soldo non gli spendiamo in edizioni ma facciamo questi benedetti lavori anche perché così insomma li chiudiamo chiudiamo proprio la parentesi e praticamente la stanza per la mansarda è completa di tutto allora ragazzi non ci perdiamo in cianci e vi faccio vedere il tutto e poi dopo ditemi cosa ne pensate e quindi ragazzi passiamo alla visita della stanza allora ragazzi questa è la salita qui vi avevo fatto vedere già tutti i quadretti e qui finalmente finalmente dico finalmente ho portato a incorniciare questo quadro che mi era stato regalato dal mio amico sebi questo mega poster di rocky che è venuto secondo me è bellissimo davanti il vetro ragazzi l'ho portato a incorniciare non è queste non sono cornici dell'ikea ho speso una fortuna a farlo incorniciare però ci tenevo anche perché sono due grandissimi titoli anche questo quadro come vedete si vedono un po le righe dietro nel poster erano anni che l'avevo lì comunque sono venuti veramente bene bellissimi guarda sebi che bello stupendo e poi ragazzi allora adesso vi faccio vedere un po all'illuminazione allora ho messo tre di questi farettini a led hanno tre funzioni quindi acceso spento o auto allora questi qui in automatico praticamente con la luce che mi filtra dal lucernario non funzionano però mi va anche bene perché se no ogni volta che vengo su insomma si illuminerebbero adesso però vi voglio far vedere allora perché dietro sono calamitati e quindi ok vi posso assicurare che questi tre faretti quando è buio illuminano tutta questa parte qui a giorno e quindi ne ho messi tre uno per ogni mobiletto e fanno veramente una bellissima luce ok adesso l'ho rimesso in automatico sono praticamente con le calamite dietro qui in mezzo esiste esiste un feltrino che viene dato in dotazione però considerate che se lo attaccate con il feltrino biadesivo questo la mattina dopo ve lo ritrovate per terra perché questi vanno a batterie ragazzi però come vedete anche magnetico io non fatto altro che andare ad acquistare due piastrine le attaccate col con l'attac e tac resta su da sola e queste sono le tre però non è finita qua adesso vi faccio vedere la surprise adesso piano 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 hop la anche queste sono tutte col sensore di movimento infatti avete visto appena ho svoltato l'angolo vedete ce ne sono ancora ancora delle spente tac tac partita quella adesso partirà anche è partita anche l'ultima io penso che rendano molta l'idea ecco questo è un punto che non vi avevo fatto vedere adesso qui ha raggruppato alcune metal box e tutte le altre steelbook adesso per il momento quelle che ho trovato a portata di mano li ho messe tutte qui e qui un altro spazio vuoto che non durerà tanto comunque ci tenevo a farvi vedere perché guardate che bellezza vi posso assicurare che di sera ha una grandissima illuminazione si vede benissimo durano 30 secondi poi si spengono vedete mi sono avvicinato anche queste sono con delle calamite hanno due calamite con due piastrine che vengono attaccate qua sopra ovviamente quelle piastrine hanno una colla e il giorno dopo infatti le ho trovate tutte per terra quindi cosa ho fatto ci ho messo due goccine di attacca in ogni piastrina e una volta che hanno tirato bellissimo poi i ragazzi non costano veramente niente perché se vi dico cosa le ho pagate costano nulla nulla pagate ragazzi 7 euro e 50 all'una 7 euro e 50 all'una dentro ci vanno quattro batterie e queste qua 6 euro e 50 all'una ma non è finita qua ragazzi scusate se tiro un po' ma qua di sopra c'è un caldo veramente fottuto allora cosa ho acquistato ancora perché non è finita qui allora qui vedete un telecomando quindi viene dato in dotazione il portatelecomando dove dietro c'è un feltrino biadesivo con il telecomando ma per far che cosa allora adesso guardate ho illuminato ragazzi le vetrine tutte e tre perché veniva venduto veniva venduto viene venduto con tre luci posso regolare da questo pulsante anche l'intensità quindi più o meno forte e più forte qui c'è un timer dove posso impostare la durata di 30 minuti quindi il posto 30 minuti si spegne automaticamente se non lo spegnete dal di qua e con adesso mi si è spento solo una però se vi trovate a una certa distanza come vedete con un click si accendono tutte sono belle vi posso assicurare che di sera è un vero spettacolo è un vero spettacolo di sera ragazzi è pazzesca anche questa veramente ha qui ho dovuto spostare adesso l'edizione di scarface perché prima avevo il castello ma come potete vedere c'è poco spazio quindi la luce non ci sarebbe stato spostato alla steelbook qui dritta invece di tenerla di piatto perché ho detto se si scolla e mi cade mi ammacca la steelbook invece così non succede niente praticamente dopo questi si svitano si gira si cava rimane solo la base attaccata e potete cambiare le batterie vanno con tre batterie mini stilo e io penso sia ragazzi è stata una bellissima una bellissima cosa comprare questi questi farettini perché veramente ci volevano ci vuole illuminazione neanche anche in queste vettrine ci voleva è una cosa spettacolare potrei pensare anche di metterne uno per ogni ripiano quindi andare illuminare tutto che potrei anche farlo e potrei anche farlo per il costo che è veramente bassissimo adesso ne andiamo a spegnere ci sono spente ok ci sono spente tutte e tre ragazzi ditemi cosa ne pensate di questa illuminazione io ho cercato di dare lo riponiamo sulla sua slitta rimane lì costo costo ragazzi di questi tre farettini compresi telecomando 7 euro e 50 quindi veramente non ho speso niente con pochi soldi sono riuscito intanto qui come mi becca come mi becca diciamo dalle nostre parti come mi prende il sensore già a questa distanza lui si accende quindi sono fenomenali fenomenali questi questi farettini che avevo pensato di comprare uguali anche qua solo che dopo tenendoli in automatico tutte le volte che vado su e giù loro si illuminano mi consumano batteria invece questi funzionano bene la sera quando c'è buio e quando veramente devono fare il loro lavoro mando passi loro si illuminano anche l'altro giorno facevo così si illuminavano ma adesso c'è veramente troppa luce con troppa luce loro non vanno e dico è anche un bene perché adesso non avrei bisogno che si illuminassero assolutamente perfetto ragazzi ditemi cosa ne pensate di questa cosa se posso prendere anche in considerazione di illuminare anche le parti sotto quindi tanto sono funzionano con un bioadesivo anche abbastanza grosso e quindi non c'è il rischio che possa cadere almeno fino adesso non sono cadute poi hanno la possibilità oltre che col telecomando di poterli attivare anche manualmente quindi se siete qui avete bisogno invece di andare a telecomando ci cliccate sopra con un dito e loro si spengono quindi sono fatte bene sono fatte bene costano poco e sono leggere quindi anche in caso di caduta si dovessero staccare non mi andrebbero comunque a rovinare l'edizione sotto tranne la steelbook ho pensato di non rischiare ma qui sicuramente secondo me ci starebbero bene in ogni ripiano e sarebbero proprio una chicca anche qua per l'edizione di ritorno al futuro intanto qui è caduto il martello qui scossa 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 lui è andato giù perché non gli ho dato non gli ho dato la giusta pendenza vediamo cosa in diretta non li buttare giù niente mannaggia perfetto ragazzi io con questo ho concluso il video prima di salutarvi ragazzi vi ricordo di attivare la campanella e iscrivervi al canale lasciarmi like ovviamente se il video vi è piaciuto datemi dei consigli per quanto riguarda le vetrine se illuminereste ogni ripiano o se secondo voi va bene così e poi un'altra cosa che volevo fare è mettere anche una luce qua qua sotto in modo che mi illumini tutta la vetrina c'è tutto il tutto lo scaffale che è grande se ne mettessi una qua sarebbe bella cosa secondo me secondo me fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quanto io penso di aver speso veramente pochissimo e di avere di essere arrivato appunto sono felicissimo del lavoro che ho fatto ragazzi ditemi voi adesso perfetto ragazzi io con questo vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti